L'evasione dagli arresti domiciliari, furto, omissione di soccorso, fuga da sinistro stradale con feriti, resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale. Sono le accuse alle quali dovrà rispondere il cittadino rumeno di 28 anni, arrestato dalla polizia di Gela. Si tratta di Stefano Bogdan Vladeanu. Ieri sera, nel corso di un intervento degli agenti, in seguito ad un sinistro sulla statale 115 Gela Vittoria, è stato individuato il responsabile dell'incidente, datosi alla fuga a seguito dell'urto con un'auto che sopraggiungeva in senso di marcia a posto. Dopo aver invaso la corsia a velocità sostenuta, il rumeno, già segnalato in passato per fatti analoghi ed attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in provincia di Catania, si è allontanato precipitosamente dal luogo dell'impatto tra le due macchine, abbandonando il proprio mezzo al centro della carreggiata, nell'attentativo di dileguarsi, senza manifestare il minimo interesse verso lo Stato di salute della controparte coinvolta, un dipendente Eni di 44 anni che stava rincasando a Vittoria. Ricercato in seguito all'evasione dal proprio domicilio presso il quale stava scontando la misura degli arresti domiciliari, il malvivente aveva commesso il furto della stessa autovettura con la quale ha causato il gravissimo incidente, ponendosi alla guida senza alcun titolo idoneo e sotto l'effetto dell'alcol. Il cittadino rumeno, subito dopo l'impatto, come dicevamo, si è dato a precipitosa fuga, ma il personale della volante 113, ben a tre pattuglie, oltre a rilevare l'incidente e avendo compreso la gravità tra fatto, è riuscito ad individuare l'uomo che, malgrado il fortissimo impatto, aveva quasi raggiunto un locale che si trova nei pressi del luogo teatro dell'evento per eludere i controlli. Prontamente bloccato ed in evidente stato di brezza, il rumeno si è scagliato contro gli operatori di polizia, minacciandoli e causando loro lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Dopo le formalità di rito, Stefan Bogdan Vladeanu è stato arrestato e tradotto nel carcere di Contrada Balate, a disposizione della Stostituto Procuratore della Repubblica, Lara Secchaccini.